Scegli oggi il tuo domani. Ciao, sono Monia Contini, mi sono laureata in chimica e chimica industriale nel 2019 all'Università dell'Insubria. Oggi mi occupo in prima persona della formulazione di prodotti vernicianti in qualità di tecnico di laboratorio ricerca e sviluppo all'interno di un'industria chimica. Tutto il percorso universitario offerto dall'Insubria è stato indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo professionale, in particolare i laboratori didattici. Questi infatti si sono rivelati di fondamentale importanza per l'acquisizione di quelle competenze che vengono richieste oggi dal mondo del lavoro nell'ambito dell'industria chimica.